Tanti applausi al Palacarrara in occasione del raduno della nuova squadra, primo atto della stagione 2017-2018, la quinta consecutiva in Serie A, la terza, con Vincenzo Esposito al timone. Purtroppo per un problema tecnico al momento le immagini non sono disponibili. Tutti presenti a parte l'ultimo straniero, che ancora serve per completare l'organico, Ronald Moore, che fresco di matrimonio sarà a Pistoia lunedì prossimo, e Marcus Kennedy che non è riuscito ad imbarcarsi per problemi burocratici. Agli ordini di coach Esposito, del vice Bongi e dell'assistente Billeri, c'era lo statunitense Tyros McGee, il polacco Oleg Gigi, il gruppo italiano al gran completo, composto da Daniele Magro, Fabio Mian, Raffael Gaspardo, Tommaso La Quintana, Cesare Barbone. Oltre agli aggregati Asen Popov, alla grande classe 97, ex Krabs Rimini, Tommaso Bianchi, guardia classe 95, ex Montecatini, Riccardo Romano, alla classe 94, lo scorso anno a Piombino. Vincenzo, bentornato, innanzitutto, che ti sembra questa nuova squadra? Direi che abbiamo fatto un buonissimo lavoro, tenendo presente le solite, se non magari anche differenti difficoltà di mercato nell'assemblare la squadra, però direi che pur mancando un giocatore ancora per terminare e completare il roster, molto contento dei ragazzi che sono arrivati, dei giocatori scelti, anche con le tempistiche con cui si è svolto il nostro mercato, quindi cose molto positive al momento.